Musica Decoro urbano, ottimizzazione del servizio e sviluppo della qualità sono i due obiettivi del progetto di raccolta differenziata raccogli centro delle comune di Perugia che è stato selezionato dal Consorzio Nazionale Imballaggi che ha anche cofinanziato l'iniziativa. Allora vediamo i servizi. Perugia cambia la raccolta e fa centro. È partito nei giorni scorsi nel capoluogo Umbro il progetto raccogli centro per il miglioramento della raccolta differenziata nel centro storico cittadino. Il progetto si avvale del sostegno economico del Consorzio Nazionale Imballaggi che lo ha selezionato tra tutte le altre iniziative presentate dai comuni, riconoscendo un cofinanziamento del 35%. Tra le novità introdotte c'è il nuovo sistema di raccolta porta a porta con Mastelli, oltre ai tre automezzi a vasche itineranti per le vie della città che con soste e programmate dalle 14 alle 20 conferiranno la frazione organica e le altre tipologie di rifiuti stabilite dal calendario vigente. Ci fa piacere, ha dichiarato Walter Facciotto, direttore generale di Conai, poter sostenere il Comune di Perugia in questa importante fase di riorganizzazione del sistema di raccolta differenziata che applica tra l'altro le linee guida previste dall'accordo quadro Anci-Conai, sia per le modalità di raccolta sia per i colori delle attrezzature. Ed è partito intanto dallo scorso gennaio, inizio anno, un nuovo ciclo di incontri, 28 seminari su tutto il territorio nazionale, quelli organizzati quindi dall'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani e dall'Anci in collaborazione con Conai proprio sulla gestione dei rifiuti. Per quello che riguarda i prossimi appuntamenti, avremo dopo quelli che si sono tenuti recentemente a Perugia il 16 febbraio e a Siracusa il 17 febbraio, a Salerno il 25 per concludere il mese con Padova il 29 febbraio. Grazie per averci seguito, l'appuntamento quindi come di consueto la prossima settimana. Arrivederci. Grazie per aver guardato il video.